E' Francesco Antonio Soddu, ex direttore della Caritas Italiana al nuovo Vescovo di Terni. La cerimonia di ordinazione nella Cattedrale Ternana, preseduta dal Vescovo uscente Giuseppe Piemontese, che per oltre sette anni ha guidato la Chiesa Patria di San Valentino, affiancato da due concelebranti, l'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, e il Segretario Generale della CEI, Monsignor Stefano Russo. Un Duomo, quello ternano, con presenze ridotte causa pandemia, ma che ha visto la presenza di autorità religiose, civili e militari. Tre pochi ammessi, due cardinali e 33 vescovi, provenienti da varie parti d'Italia. Tra gli invitati, l'Arcivescovo Vincenzo Paglia, già Vescovo di Terni, attuale presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Tra le autorità civili, il prefetto Dario Emilio Sensi, il questore Bruno Failla, la senatrice Valeria Alessandrini, l'assessore regionale Paola Agabiti, la presidente della provincia, Laura Pernazza, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e i sindaci dei comuni della Diocesi. Nato a Chiaramonti, in provincia di Sassari, il 24 ottobre 1959, so due stato ordinato sacerdote, il 24 aprile 1985, nel 2012, è diventato direttore della Caritas Italiana. Eletto alla sede vescovile di Terni, Narni, Amelia, il 29 ottobre 2021, il 5 gennaio, ha fatto il suo ingresso in Diocesi con l'ordinazione in cattedrale. La chiesa di Sassari ha detto Soddu, mi dona a voi non come un pacco regalo arrivato da chissà dove, io nasco vescovo qui, in questa chiesa, in questa comunità ecclesiale, accoglietemi e sentitemi uno di voi, fratello, amico e per grazia di Dio anche padre. Parole di affetto e stima da parte del vescovo emerito, Monsignor Piemontese, la nostra presenza qui oggi, ha affermato, è segno di affetto ma anche assunzione di responsabilità. Siamo qui per sostenere il vescovo Francesco Antonio nel suo ministero, rassicurarlo che da oggi prendiamo l'impegno di stargli vicino nelle prove, di accompagnarlo con la preghiera e l'incoraggiamento nella missione grande di reggere questo popolo di Dio.